devi usare il retarder quando serve e tenerlo un po' più nella corsia delle righe dentro centrale cercando di non scuoterlo perché più lo scuoti e più il camion si imbarca e quindi anche lì è maggior consumo perché lui si deve continuamente riprendere la guida va lineare così se vuoi la guida ancora più lineare basta che schiacci il cruise control e lui ti tiene in 70 noi andiamo verso il canale su quella strada lì perché freniamo adesso? quella strada lì è un sorriere proprio come ti chiami? Maria Luisa Maria Luisa va bene Mary Mary per gli amici qua mi chiamano tutti così Mary per gli amici se io la mettevo qui alla guida non alla patente 19 anni alla B sconvito che non frenavali non è che ti vuoi sentire i rumori come cambia di giri forse non so è per questo motivo qua giusto? sì Mary vieni un sacco di Lamborghini dove? a Londra perché sei stata a Londra a studiare? no magari ok a far cosa? lo tornavo qua tanto no una gita scolastica io sono stata a Londra per levare un veicolo sinistrato guida le bisarche per la Scania sì effettivamente quando sono sceso dalla nave ho trovato una leggerissima difficoltà con il prendere la rotonda sulla sinistra invece che sulla destra anche sulla destra no no ma anche io se dovevo attraversare la strada guardavo prima dall'altra parte ho dovuto farmi 300-400 km ancora e non riuscivo a connettere che ero ancora sulla sinistra di là e vedevo speciare sulla destra le altre macchine veramente in autostrada un po' bruttino qui adesso perché non mi prende l'indicesimo? perché sei in AP l'hai messo in AP certo adesso qua c'è la rotonda comincia a frenare perché ci giriamo torniamo dietro allora in AP vuol dire automatico potenza che aumenti le marce cioè cambia le marce ha più alti regimi di giri però in pianura non ti serve capito? più dolce stai più dolce più sereno parla di al veicolo è come parlare alla Mary piano piano non accelerare da sicuro non serve tenilo regolare facilissimo stai più dolce anche adesso rallenta ai su dei blocchi che se si muovono ci rivaltiamo perciò dobbiamo essere dolci ma l'AP lo prende da solo l'AP la dai te capito? se no lo metti in manuale e lo gestisci te grazie a tutti